Trieste è una piazza molto ambita, importante nel panorama calcistico italiano, perciò al di là della categoria per me è una scelta importante e spero di ripagare la fiducia della società che mi ha dato. Con queste parole si è presentato oggi il nuovo allenatore della Triestina Giuseppe Beppi Pillon. Nel pomeriggio odierno infatti è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Carmine Gautieri dalla guida tecnica della prima squadra Rosso Labardata, incaricando Pillon a prendere le redini del gruppo che lui stesso incontrerà nella mattinata di domani. Dopo il pareggio di Carpi era nell'area che qualcosa si stesse muovendo sul fronte societario, a pagare lo scotto Mr. Gautieri, che la società ha tuttavia ringraziato per il suo impegno e la sua dedizione profusa in questo periodo. Ora la palla passa all'esperto Mr. Trevigiano, arrivato oggi a Trieste assieme al preparatore atletico Giacomo Tafuro, che farà parte del suo staff. Un ritorno nel nord-est per Pillon, grande protagonista anni fa con il Treviso e in vetrina anche a Verona con il Chievo. Sì, sono molto felice di questo perché mi permette di essere anche vicino a casa, ma soprattutto in una piazza importante, perciò al di là della distanza, al di là di tutto, la scelta è fatta molto ponderata da parte mia e sono molto contento di essere qua. Domani Pillon incontrerà la squadra e imposterà le basi del suo calcio. Ho visto la squadra nell'ultima partita, tra i precedenti le ho viste nei filmati che mi sono documentato e devo dire che la qualità ci sono. L'importante è creare una squadra, a me piacciono le squadre che attaccano in 11, difendono in 11, che giochiamo la squadra. La cosa principale è questa perché a livello di Serie C l'importanza notevole è l'organizzazione di gioco, la corsa, la determinazione, lo spirito di gruppo e non mollare mai fino alla fine. Perciò in questa categoria è importantissimo questo. E sebbene oggigiorno allo stadio manchino i tifosi, il mister non ha esitato a mandar loro un messaggio. Noi veniamo qui con grande voglia, con la voglia di dimostrare di essere all'altezza della Triestina, ma soprattutto di rendere felici i tifosi e la società, da parte mia e dei miei giocatori.